Cominciamo e parliamo del caso Terra. La Terra è l'unico caso conosciuto di vita nell'universo. Non ho detto che è l'unico, ho detto che è l'unico che noi conosciamo. Quindi l'universo probabilmente è pieno di vita, ci sono molti pianeti come la Terra, ancora non lo sappiamo, però studiando la Terra stiamo scoprendo che la Terra è un pianeta normalissimo, che si è trovato nelle giuste condizioni per seguire un percorso evolutivo sia chimico che fisico che l'ha portato ad essere oggi questo grande laboratorio biologico che abitiamo. E cominciamo a vedere com'è nata la Terra. L'abbiamo già vista, la Terra è nata dalla condensazione di materiali durante la formazione del sistema solare, come tutti i pianeti normali, acquisito una forma sferica a causa della gravità e una differenziazione di materiali per la densità. Quindi ha un nucleo metallico, una crosta e un mantello di silicati e poi ha accumulato volatili come anticarbonica e acqua e azoto per formare la sua atmosfera. In passato questo era l'aspetto della Terra. Con questa continua caduta di meteoriti che la colpivano e che di conseguenza ne portavano materiali in superficie e la crescevano, e poi la degastazione dei vulcani che ha generato l'atmosfera e l'accumulo in superficie di acqua per condensazione, e quindi la formazione di oceani. Questo era l'ambiente che caratterizzava la Terra all'inizio della sua vita, in questa fase di formazione. In questo ambiente è nata la vita, infatti gli scienziati stanno studiando le caratteristiche di questo ambiente per capire quali sono quelle forze e quelle leggi che hanno trasformato la chimica in biologia. L'atmosfera terrestre non aveva ancora ossigeno e i vulcani emettevano in continuazione vapore acqueo e anidride carbonica, che appunto erano i gas principali che componevano la sua atmosfera. Inoltre la geologia del pianeta ha da sempre avuto un ruolo importante nella nascita della vita, infatti vedremo che è proprio la geologia del pianeta ad aver caratterizzato l'ambiente superficiale. I vulcani emettevano, come detto, anidride carbonica e acqua, e quest'acqua si condensava sotto forma di biogge a formare gli oceani. Inoltre questa anidride carbonica creava un effetto serra molto potente, e questo effetto serra manteneva una temperatura sufficiente affinché l'acqua potesse essere allo stato liquido in superficie. Quindi l'effetto serra dell'epoca era molto più potente di oggi, e questo era compensato dal fatto che il Sole, essendo una stella molto più giovane rispetto a come oggi, era molto più fredda. Vedremo poi perché. E questa grande quantità di anidride carbonica, unita a un irraggiamento solare di oltre il 50% più debole di quella attuale, permetteva alla superficie di avere una temperatura ideale per mantenere acqua liquida in superficie. Poi vediamo che anche la tettonica a placche ha avuto un ruolo molto importante, infatti, come vedremo quando confronteremo la Terra con gli altri pianeti del Sistema Solare, la caratteristica che ha permesso alla Terra di mantenere una temperatura costante e acqua liquida in superficie è stata proprio la tettonica a placche. Infatti, come detto prima, i vulcani emettevano CO2 in atmosfera, quindi l'attività vulcanica emetteva questi gas serra nell'atmosfera, questi gas serra venivano assorbiti dall'acqua e il gas assorbito diventava carbonio che finiva sul fondo del mare e con la tettonica a placche ritornava nel sottosuolo. Questo ciclo, chiamato ciclo del carbonio, ha impedito che la Terra facesse la fine di Venere e di Marte. Infatti, in questi due pianeti non c'era una tettonica a placche e in uno l'ACIO2 si è accumulata in atmosfera creando un'effettazione a rabbalanga, nell'altro, invece, è rimasta intrappolata nel sottosuolo impedendo che si formi un effetto serra abbastanza adeguato e quindi, di conseguenza, i due pianeti hanno avuto un destino molto diverso da quello terrestre. Questa era la figurazione di come doveva apparire la Terra nei primi stadi della vita. La vita era principalmente costituita da queste colonie batteriche in acqua alimentata più dall'energia geotermica che da quella solare e queste colonie batteriche sono rimasti l'unice semplice di vita per oltre il 75% della storia della vita sulla Terra. La vita è comparsa sulla Terra circa 4 miliardi di anni fa e per 3 miliardi e mezzo di anni, 3 miliardi e 200 miliardi di anni, è stata vita unicellulare batterica. Tutto quello che noi conosciamo come organismi multicellulari, dinosauri, pesci, alberi, quindi la vita complessa che noi definiamo come vita normale, in realtà è avvenuta nell'ultimo 20% della storia della Terra, quindi è la parte finale. Per la maggior parte della storia della vita sulla Terra, la vita era sotto forma di batteri e i primi batteri in particolare erano prokaryoti, ovvero organismi unicellulari senza nucleo con il DNA distribuito così nel citoplasma senza una organizzazione interna. Noi invece siamo organismi pluricellulari fatti da cellule eucariote dove il DNA è conservato all'interno del nucleo e ci sono molti più organoli specializzati, quindi queste sono proprio le cellule primordiali, i batteri in particolare. Questo è solamente un estratto della video-lezione completa sulla vita oltre la Terra. Nella lezione completa parlerò della chimica della vita, quindi vedremo le molecole e gli atomi che compongono la vita sulla Terra, parlerò del caso Venere e del caso Marte e vedremo quali sono i candidati degli astropaneti già scoperti che possono ospitare la vita. Parlerò di questo e tanto altro ancora nella lezione completa, la numero 10 del mio corso di astronomia, Vita oltre la Terra. La potete trovare nel mio canale YouTube e nelle mie pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie.